In questo momento ci sono solo quattro nazioni e zone, non nazioni completamente colpite, che hanno la presenza di questi casi in zone rurali, come giustamente diceva il collega, e tra l'altro in nazioni dove non c'è una immigrazione verso il nostro paese. E quindi non è questo l'elemento. Tra l'altro si bisogna vedere come nella Gigeria, dove le strutture sanitarie sono più organizzate, una situazione che c'era in parallelo è già stata messa sotto controllo, grazie a interventi in loco delle strutture sanitarie che hanno avuto la capacità di controllare la diffusione. Quindi non c'è un'immigrazione che arriva nei nostri paesi da questi paesi. E in più chi arriva come immigrato, mi risulta, ma dai dati anche di osservazioni di persone che arrivano, che per lo sbarco e l'arrivo, cioè la parte del viaggio in nave, è l'ultimo tratto di mesi di viaggio. E per arrivare lì, arrivare in Italia, bisogna essere sani. E sicuramente è impossibile per un malato avere questa possibilità. Quindi dai barconi non arriva l'ebola? Diciamo, tutto è possibile, gli scenari del futuro ci possono essere, la natura ha sempre degli elementi di incertezza, ma la situazione attuale a cui noi ci stiamo preparando come strutture sanitarie italiane è di un caso importato via aerea e quindi la necessità di contenerlo, perché è il problema che si pone in quelle nazioni, cioè quello di avere una conoscenza, un'informazione delle strutture, delle dispositivi di protezione per permettere il contenimento dell'arrivo.